buongiorno a tutti oggi vi faremo vedere come trasferire un'immagine in due tre fasi quando risulta essere più grande della piastra stessa useremo un materiale leggero trasparente e lo trasferiremo su di una t-shirt bianca abbiamo creato su di alcuni punti degli spazi vuoti spellicolando per creare una stampa più morbida leggera iniziamo posizioniamo la t-shirt al centro sopra andiamo a posizionarci l'immagine il materiale ricordiamo essere soft print 3.0 andiamo a pressarlo ad una temperatura di 150 gradi centigradi per 8 secondi la metà del tempo previsto per fissare il materiale in questo primo momento spostiamo il tutto facendo attenzione a non sfasare la posizione del materiale dalla t-shirt andiamo a ripressare per fissare tutti gli elementi che sporgono dalla piastra per un tempo più lungo 15 secondi a 150 gradi rimuoviamo il supporto a caldo ed ecco questo il risultato finale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti